Grazie a tutti. In aumento gli iscritti al Polo Universitario di Prato, previsto un nuovo corso in architettura. Consiglio Comunale Congiunto Prato-Montemurro per il giorno della memoria, per non dimenticare la deportazione di Roma e Sinti. La Camerata Strumentale Città di Prato al Politeama sulle note di Beethoven e Sibenius. Una buona giornata dalla redazione di TV Prato, ben trovati ad un nuovo appuntamento con il Tg del giorno. In primo piano la cronaca perché i carabinieri hanno arrestato un altro spacciatore che si muoveva in taxi abusivi per le consegne notturne. Nell'appartamento a lui in uso in via Filzi è stato sequestrato un chilo di chetamina per un valore complessivo di 60 mila euro. Uno spacciatore di chetamina che si muoveva nelle sale slot cittadine è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri del nucleo investigativo. L'uomo, un 38enne irregolare in Italia, giunto in Europa a Madrid nella primavera del 2018, è stato fermato e controllato a luna di notte all'esterno della sala VLT di Piazza Ciardi è trovato in possesso di quattro bustine da tè contenenti quattro grammi di chetamina. I militari hanno esteso la perquisizione all'appartamento a lui in uso in via Filzi, dove sono stati sequestrati altri 840 grammi di chetamina suddivisi in sette buste di cellofan con chiusura a pressione ed ulteriori 160 grammi di droga già confezionati in 74 bustine da tè. Il valore della droga è stimato in oltre 60 mila euro. Nell'abitazione del pusher sono stati sequestrati anche 248 astucce di plastica vuoti per la confezione delle dosi, una bilancina elettronica di precisione e 1.475 euro in contanti provento dell'attività di spaccio. L'arrestato è stato messo agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Diverse le analogie tra l'arresto odierno e quello di un altro spacciatore finito in manette un mese fa, anche in quella circostanza i carabinieri scoprirono un cittadino cinese che trafficava stupefacenti tra sale slot e laboratori tessili. Anche in quel caso l'uomo era un perfetto sconosciuto, presumibilmente a Prato da quattro anni, mai fermato e controllato dalle forze dell'ordine, praticamente un fantasma che si muoveva nelle ore serali per le consegne di droga utilizzando taxi abusivi. Anche in quel caso il sequestro di stupefacenti, cui si riferiscono queste immagini, fu ingente per un valore di oltre 80.000 euro. E proseguiamo con la cronaca. Incurante delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria che lo aveva messo agli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori dal domicilio di detenzione ed è stato per questo arrestato per evasione dai carabinieri. L'uomo non nuovo a simili episodi è un 45enne cittadino cinese con precedenti per furto, il quale evaso nonostante il suo regime detentivo gli consentisse in altri orari quotidiani di potersi allontanare dal domicilio. L'uomo sarà giudicato per direttissima. Parliamo adesso di università perché sono in aumento gli iscritti al polo universitario Città di Prato, che lancia anche un nuovo corso di laurea triennale in architettura. Stamani si è tenuta la cerimonia di inaugurazione delle attività dell'anno accademico 2021-2022. Vediamo. Questo è sicuramente un elemento di novità. Mi piace anche ricordare che ce ne sono altri per la diversità di Firenze, in particolare un corso di economia e un corso di ingegneria. Ma sicuramente qui a Prato colpisce questo corso che credo possa venire veramente incontro alle esigenze. È un corso importante che tratta temi di grande attualità e credo assolutamente collegate al territorio, che come io ho sempre sostenuto è un elemento importante per l'università. Sono 30 anni di presenza in città, quest'anno consolidiamo la presenza anche con un rinnovato corso che partirà a settembre e quindi diciamo c'è un impegno in più nel fornire servizi agli studenti che vogliono iniziare la loro attività accademica e siamo molto felici perché sono tutti dei dati con il segno più, più studenti, più corsi, più laboratori, più impegno da parte di tutti e quindi speriamo veramente che il PIN riesca a convogliare queste due anime che sono la manifattura e l'università, soprattutto la ricerca, per trovare delle soluzioni innovative a un futuro che è molto difficile e che dobbiamo essere in grado di affrontare in maniera completa. E passiamo adesso agli aggiornamenti sulla pandemia. Sono 5.203 nuovi casi di Covid registrati oggi in Toscana, di cui 208 a Prato e Provincia. In confronto a ieri i contagi sono in calo a fronte di un minun numero di test, con il tasso di positività lievemente superiore. A livello regionale l'eccesso di erni sono 10, uno dei quali nel Pratese. Continuano ad aumentare di nuovo i ricoveri, seppur lentamente. Oggi i pazienti nelle aree Covid degli ospedali toscani sono 699, 9 in più rispetto a ieri. Ma prosegue la riduzione delle terapie intensive, con 31 posti letti occupati, 4 in meno di ieri. Consiglio Comunale Congiunto, Montemurlo, Prato, per non dimenticare la deportazione di Roma e Sinti e ribadere valori di democrazia e pace. Non sono mancati anche riferimenti alla guerra in Ucraina. L'appuntamento si doveva celebrare in occasione del giorno della memoria del 27 gennaio, ma è stato rimandato a causa della pandemia. Montemurlo e Prato, insieme per non dimenticare. I consigli comunali delle due amministrazioni, nel pomeriggio di martedì 15 marzo, si sono riuniti in una seduta straordinaria e congiunta alla sala Banti di Montemurlo per affrontare il tema della memoria delle vittime dell'Olocausto, ribadendo i valori di democrazia e pace. Oggi purtroppo è di stretta attualità, con un conflitto in Piano Europa, in corso in Ucraina, diventa ancora più importante fare memoria, perché fare memoria significa sicuramente lottare per la democrazia, per la libertà, per la pace e contro la guerra, contro le discriminazioni e tutte le oppressioni. È il terzo anno consecutivo che le due assemblee si riuniscono per parlare di memoria, il primo che l'iniziativa si tiene a Montemurlo. E lo stiamo vedendo, quello che sta succedendo qui a due ore di volo da noi è esemplificativo del fatto che forse non tutte le lezioni sono state imparate, che non tutti quei valori sono introiettati dentro la comunità più ampia possibile. E allora anche questo è un gesto, per carità sappiamo che non cambierà i destini del mondo, ma è un gesto che mette un tassello di ricordo e un tassello di valore. I due comuni, nella seduta congiunta di quest'anno, hanno scelto di parlare di olocausto affrontando una pagina della storia ancora poco trattata e conosciuta, quella della deportazione dei Rom e dei Sinti. Io sono una Sinti italiana e purtroppo i miei avi, alcuni di loro finirono ad Auschwitz. Oltre a ricordare e dare spazio a questa narrazione, l'importante è impegnarsi e fare una riflessione critica su quello che è l'antiziganismo oggi e quindi in un certo senso attraversare Auschwitz, cioè fare in modo che si sviluppi una riflessione critica su quello che è il presente. Ci occupiamo adesso di musica, nuovo concerto della camerata strumentale Città di Prato. Domani alle 21 al Teatro Politeama, l'orchestra diretta da Jonathan Webb eseguirà la seconda sinfonia di Beethoven in conclusione delle celebrazioni per i suoi 250 anni. Termina un ciclo ma prosegue quello dedicato a Jean Sibelius. Prima del concerto, alle 18.45, si terrà la guida all'ascolto tenuta dal direttore artistico Alberto Battistini. L'abbiamo intervistato durante le prove. Vi aspettiamo a questo concerto, soprattutto perché c'è una grande opportunità. L'opportunità di conoscere un pezzo che rarissimamente viene eseguito e che, vi confesso, non l'ho mai ascoltato dal vivo, l'ho programmato ma conoscendolo soltanto attraverso le registrazioni e nella bellezza dell'esecuzione dal vivo davvero fiorisce come una meravigliosa pianta che tu non hai mai visto prima, di cui non hai mai sentito il profumo. È la sesta sinfonia di Sibelius in re minore e vi assicuro che è una bellissima rivelazione. Noi stiamo completando piano piano, passo per passo, il ciclo delle sette sinfonie di Sibelius. Questo è il nostro secondo appuntamento e vi assicuro che questa sinfonia che normalmente viene lasciata un po' da parte nel gruppo delle sette sinfonie in realtà è un gioiello e, come diceva l'autore, acqua pura e fredda. È un finlandese che parla e quindi di acqua pura se ne intende. L'altro è invece la chiusura di un ciclo, l'esecuzione di tutte le nove sinfonie di Beethoven dirette da Jonathan Webb che si chiude proprio in occasione di questo concerto con la seconda sinfonia, nata nel teatro Nandervin nel 1802. Una musica piena di gioia, di speranza, di felicità. Ne abbiamo tutti bisogno, tanto bisogno. Venite in teatro a prendervi un frammento di felicità. E adesso è il momento delle previsioni meteo, come sempre, a cura del Consorzio Lamma. Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. L'immagine satellitare ci mostra una vasta area nuvolosa che interessa gran parte della penisola iberica e della Francia. Sull'Italia questa perturbazione si limita a portare della nuvolosità per lo più innocua. Le condizioni meteo attese in Toscana. Nel pomeriggio sera di oggi cielo a tratti nuvoloso, parzialmente nuvoloso sul sud della regione, venti moderati di scirocco, mari mossi, temperature massime su valori gradevoli intorno ai 15-18 gradi in pianura. La giornata di domani cambierà ben poco. Condizioni di cielo parzialmente nuvoloso a tratti nuvoloso, in particolare in mattinata, venti orientali, mari mossi a largo, temperature minime in diminuzione. Nel pomeriggio ampie schiarite, sebbene permarrà della nuvolosità di tipo medio-alto, i venti rinforzeranno ulteriormente dai quadranti orientali, mari mossi a largo, temperature massime in aumento, con punte di 19-20 gradi nelle zone interne di pianura. Bene, con questo concluso. Buona giornata a tutti. Bene, anche dalla nostra redazione per il momento è tutto, ma continuate a seguirci. Vi ricordiamo alle 17.30, in diretta dalla Chiesa di Santa Maria dell'Umiltà a Chiesa Nova, la recita del rosario e a seguire la celebrazione della Santa Messa. L'informazione di Tivo Prato torna invece questa sera alle 20.30 con il Tg della Sera. Intanto tutti gli aggiornamenti li trovate sul nostro sito web tvprato.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Grazie per aver guardato il video.